Le strade del gusto oggi ci portano a Verona, dietro di me le arche scaligere. Andiamo a scoprire il ristorante di oggi. Prima però vi voglio dare due indizi. Uno, si trova nella parte più bassa e antica di Verona. Due, il ristorante ci tiene a presentare piatti della tradizione ma con una chiave molto moderna. Ciao Nicole, ciao Francesca, ciao. Benvenuta all'Antica Melia Bistrò. Entriamo nel tuo mondo. Andiamo. Nicole, raccontami adesso un po' di storia del tuo locale. So che insomma ha fatto un po' di giri. Sì, come ti dicevo noi siamo partiti dallo storico in Lunga di Gerubele 6-7 anni fa. Poi da lì, 3 anni fa abbiamo deciso di spostarci, di restringerci e abbiamo trovato questa location che a me piaceva molto. Non era un ristorante, era un antiquario. Mi ricordo. Nasce come antiquario, quindi anche questa cosa mi aveva particolarmente colpita e nel 2020 decidiamo quindi di fare questo passaggio da un posto molto più grande, con molti più coperti, a un posto un po' più intimo. A parte passando che sei già una sensazione di quello che ti aspetta un po' dentro, quindi sei stata anche bravissima, secondo me a creare già dall'esterno un po' di aspettativa che si respira, no? Cioè si entra e per me è come entrare dentro una fabola, ma forse anche il tuo mondo. Sì, l'ho arredato totalmente da sola, non mi sono affidata a nessuno. Ho avuto il tempo di poter seguire tutto, anche perché purtroppo, come ti ricordi, eravamo in periodo covid, quindi ero a casa, sul divano, con nulla da fare e ho deciso di dedicarmi a questo. Come sfruttare bene il tempo in quel caso. Come sfruttare bene il tempo, sì. Avevo poi un deposito pieno di oggettistica che avevo raccolto in svariati viaggi e che avevo poi deciso di usare qui. Quindi tante cose che vedi sono dei pezzi raccolti durante i viaggi. Che bello. Quindi tu la mattina quando entri, entri comunque sempre a casa. È lavoro, però è casa. Sì, è molto casa. Io passo qui le mie giornate e ho proprio voluto creare un ambiente dove io mi sentissi totalmente a mio agio. Siamo in pieno centro e spesso i ristoranti in pieno centro vengono magari anche visti come una proposta tanto tipica. Ma mi dicevi prima che è tutto un po' rivisitato. Con una chiave un attimo più moderna. Raccontami un po' la tua cucina. La mia è una cucina che rimanda molto alla tradizione come idea e come ricordo. Sono piatti magari che mangiavo dalla nonna. Totalmente rivisitati in chiave mia e in chiave più moderna. Mi piace usare il prodotto del territorio. Magari la Lessinia per prima ci offre tantissime cose. Quindi tanti miei produttori sono della Lessinia o comunque qui delle zone della provincia. Ma ho voluto svecchiare e spostare i piatti da quello che si può trovare ormai un po' ovunque. Anche perché diciamo che poi si sposa anche con l'arredamento. Tu hai dato questo gusto un attimo. Come hai detto, tu svecchiato, giusto? E questo lo riporti comunque anche nella tua cucina. La mia idea era quella di far sentire il cliente sia a Verona ma ovunque nel mondo. Mi piace quando si siedono e mi dicono ma sai mi ricorda tantissimo un locale che ho visto a... Oppure questo piatto mi ricorda un piatto asiatico e magari è un piatto fatto con un prodotto nostro preso qui a 20 km di distanza. Questo gioco a me piace molto. Uno entra, sei nel cuore di Verona, però è vero, quando entri sarà il giardinetto, sarà come è stato arredato, potresti essere ovunque in realtà. Ma è perfetto. Era dove volevo arrivare. Hai centrato. Arriviamo al dunque che è la parte che io preferisco. Ma farmi assaggiare qualcosina della tua cucina? Sì, vado subito a prepararti qualcosa. Allora io ti aspetto. Va bene. Eccomi. Cosa mi hai preparato di buono, sentiamo. Dunque ti faccio assaggiare il nostro gaspaccio di baccalà. Come ti dicevo ci piace tanto usare i prodotti tipici o le ricette tipiche e poi rivisitarle. Baccalà, grande piatto della tradizione, marinato, con delle verdure di stagione e poi con un latte di cetriolo. Ma wow! Che andrà a finire il piatto. No, vabbè, adoro. Guarda, io per l'occasione ti ho portato una bottiglia della famiglia Scriani. È un metodo classico extra brut. È un vino che si presenta elegante, vellutato. Ho pensato che con i tuoi piatti andassi vincendo. Sì, mi colpo. Sì, mi colpo. Francesca, eccomi. Proseguiamo con... Questo è il mio piatto del cuore. È una trota. È un allevamento del Trentino, da cui noi attingiamo da anni ormai. È servita con dello yogurt di capra e del saor di cipolla rossa. Io lo chiamo un po' il mio piatto della rinascita, perché a un certo punto avevo avuto un blocco totale in cucina. Come chef. Sì, non veniva fuori più niente dalla mia testa. Questo è stato il risultato dopo un paio di mesi. Ci sei legata per forza. Tantissime. Sa di fresco, la sensazione che arriva subito è fresca. Assaggio. Vai. Assaggio. E visto che siamo sempre in tema di freschezza, proseguo con un altro gocettino di vino che, tra l'altro, dovresti sentire delle note di albicocca e ananas che rendono tutto un po' più fresco. Grazie per l'esperienza, amico. Grazie a te. Per la figlia. In questo giardino, nel tuo giardino, si può chiamare tuo giardino? Sì, direi di sì. Spettacolo, eh? Grazie. Ora è anche il mio preferito. Ecco. Grazie, Nicola, per questa esperienza di gusto, per restare un po' in tema con il nostro programma. Sono stata proprio bene a casa tua, qui d'Antica Mella. Grazie a te, Francesca. Grazie di essere venuta a conoscermi. È stato molto bello, molto divertente. Grazie, Nicola. A presto. Termina un'altra bellissima puntata di Strade del Gusto, dove ormai mi sto abituandovi, devo dire la verità, e per restare in tema ad assaggiare molte cose gustose. Chissà quale sarà la prossima tappa piena, 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 piena di gusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.